Sindaco, immagino stanco, si vede anche un po' ma soddisfatto. Sì, insomma è stato un bel consiglio, duro, lungo, come giustamente il tema richiedeva. Però abbiamo portato fortemente la nostra posizione, abbiamo espresso con chiarezza la nostra volontà, la volontà di risolvere la convenzione, una convenzione che ha tenuto stagio lo stadio, ha tenuto stagio la città di Teramo per tanti anni, che hanno pagato tutti, perché di fatto questa convenzione è stata pagata dalla città, dagli amministratori, dalle società, dai gestori stessi ed è di fatto diventata anti-economica ed è un'anti-economicità che noi oggi abbiamo voluto superare. Adesso scriviamo insieme le regole del gioco, costruiamo quindi una fase nuova, l'accordo è un accordo molto equilibrato, anche oggi è emerso dalla discussione soprattutto dei tecnici che hanno chiarito come sia stato sia un accordo per la risoluzione che un'operazione di fatto neutra che consente quindi di avere un equilibrio di bilancio e soprattutto lancia una sfida per il futuro. Devo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, ovviamente i nostri uffici, tutta la maggioranza, i consiglieri, abbiamo avuto delle defezioni dell'ultima ora per causa di forza maggiore, però devo ringraziarli e consentitemi di ringraziare un consigliere in particolare, il consigliere Falasca perché è stato presente in consiglio nonostante si trattasse oggi di una giornata triste per lui e per la sua famiglia, per la scomparsa del papà, segno di una serietà, segno di un attaccamento alla città e soprattutto alla capacità di sentire l'importanza di questo momento. Devo ringraziare tutti, ringrazio il gestore con cui siamo arrivati ovviamente a questo accordo, ringrazio il città di Teramo che comunque ha vissuto queste giornate con una situazione anche di difficoltà per via del fatto che siamo andati a giocare a Notaresco, però come ho sempre detto ci siamo concentrati, mi sono concentrato sul grande obiettivo, cioè arrivare ad un consiglio comunale che risolvesse definitivamente per il futuro, non soltanto per quest'anno, la questione Bonolis e lo ha dimostrato il consiglio di oggi. Ma lui l'aveva anticipata, ha anticipato una posizione individuale, personale, che non lo vedeva d'accordo su questo tipo di scelta, fermo restando che come ha detto anche oggi ha confermato come la nostra amministrazione si è fatta carico di risolvere un problema che altri hanno creato, che altre situazioni hanno determinato e che comunque è una scelta che ha scritto il futuro. Si era stenuto anche in commissione, quindi non è stata una novità. Certo, mi sarebbe piaciuto se ci fosse stato un voto favorevole, ma era stato annunciato già da tempo. Adesso lo possiamo chiedere al Comune di Teramo se il 13 ottobre Teramo Ancuna si giocherà allo stadio Bonolis. Sì, adesso bisogna attuare l'accordo, l'accordo prevede che l'accordo avrà efficacia dal primo pagamento che verrà effettuato, quindi adesso ci sarà la registrazione dell'accordo e degli atti. Il pagamento, abbiamo già domandato all'ottoressa Cozzi di procedere immediatamente, perché ovviamente l'obiettivo è cominciare a lavorare per il futuro, però diciamo che il grosso è fatto.